Da 35 anni, nel mese di ottobre a Ravenna, si apre la stagione teatrale Le Arti della Marionetta, un appuntamento consolidato che accompagna il pubblico fino a primavera, negli spazi delle Artificerie Almagia e del Museo La Casa delle Marionette. In una conferenza stampa, Roberta Colombo e l'assessore alla cultura Fabio Sbaraglia hanno presentato la ricca programmazione di quest'anno. Siamo alla 35esima edizione, è una stagione di teatro di figura rivolta al pubblico delle famiglie, bambini e genitori, che dall'anno scorso si è arricchita delle arti per la scuola, quindi ci sarà anche tutta una rassegna collaterale rivolta al mondo della scuola. Siamo la domenica pomeriggio, siamo all'Artificeria Almagia e siamo anche al Museo La Casa delle Marionette, che ospiterà tantissime attività collaterali, oltre agli spettacoli, laboratori e incontri tematici, riferiti sempre al teatro di figura, in particolare sul museo al teatro dei Burattini. L'invito è rivolto ovviamente a tutte le famiglie di Ravenna. Quest'anno grande novità, il biglietto sospeso e anche per tutte le famiglie che sono state colpite dall'alluvione, un particolare biglietto a un euro. Questa è la nostra azione più forte che ci sentivamo di fare in questo momento in cui la nostra terra di Romagna sta soffrendo per tutto quello che ci è successo a maggio e che noi abbiamo sperimentato molto bene attraverso l'edizione del Festival Arrivano dal mare. Però con grande gioia, veramente, apriamo in nuovo le porte del teatro con spettacoli dai due anni fino ai Teenagers. Apriremo e inaugureremo con la coproduzione internazionale fra lo Jugendtheatr di Speyer e il Teatro del Drago i tre desideri dedicati ai Fertelli Grimm. E questo spettacolo sarà rivolto anche alla fascia degli adolescenti. Questa 35esima edizione delle arti delle Marionette si rinnova una tradizione che tutti gli anni vive di nuove innovazioni e di nuove sperimentalità. Questo tiene vivo un filo che collega la nostra città al teatro di figura grazie all'esperienza della famiglia Monticelli e al lavoro del Teatro del Drago. E questa è, diciamo così, ci aspettiamo un'edizione anche per quest'anno assolutamente coinvolgente, capace di attrarre tante famiglie, tanti bambini, tanti bambini, tanti ragazzi e tante ragazze. Le arti della Marionetta promuovono la straordinaria arte della figura dedicando l'intero cartellone al pubblico delle famiglie con spettacoli pensati dalla prima infanzia all'adolescenza. Due le novità importanti di quest'anno, il biglietto sospeso a favore delle famiglie meno abbienti e il biglietto di un euro per tutte le famiglie alluvionate. Grazie a tutti.